Salve! Abbiamo bisogno di eliminare delle pagine da un documento PDF? Con anteprima è semplice. Selezioniamo le pagine da eliminare, per esempio la 3 e la 4, poi andiamo in composizione, clicchiamo su elimina e il nostro documento sarà così accorciato. Poi abbiamo la possibilità di andare in archivio, registra col nome e dare un nuovo nome al documento così modificato.